Il lavoro a Londra è duro, è estremamente duro. Se hai paura di lavorare o se non sei disposto a fare il classico ciucce fatica, ti sconsiglio di venire a Londra. A Londra è vero, si può crescere. C'è molta meritocrazia, ma la meritocrazia merita chi lavora di più, non a chi fa di meno. Quindi, pensaci bene prima di partire. Ho conosciuto tantissime persone che si sono sentite sopraffatte dalla mole di lavoro che c'è da fare nelle attività a Londra. Qualsiasi essa sia. Chi non ha voglia di lavorare, non solo non fa niente in Italia, ma non lo farà nemmeno a Londra e probabilmente a Londra spenderà il triplo dei soldi se ne dovrà tornare da mamma e papà, in men che non si dica. Ragion per cui, prima di partire, fatemi un grandissimo esame di coscienza pensando, ok, ma io sono disposto a lavorare davvero, a crearmi un futuro, sono disposto a dedicare la mia vita al lavoro, sono disposto a sacrificarmi davvero per raggiungere magari un determinato scopo. Perché non è detto che puliate a fare i lavapiatti e volete poi rimanere lavapiatti a vita, magari avete il sogno di aprire i miei restaurati, piuttosto che poi imparando la lingua di cambiare lavoro e di entrare in banca. Ho conosciuto persone che sono entrate in banca, così come persone che lavorano negli effetti speciali di grandi case cinematografiche. Quindi c'è bisogno di molta umiltà.